Università d'impresa, le protagoniste di Expo Tesi, qualificato confronto promosso dal Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata dell'Università di Padova nella sede Rodigina del Cur, a testimoniare l'attenzione dell'Ateneo Patavino nei confronti della realtà decentrata, Tommaso Patarnello, prorettore alla Campus e alle sedi esterne. Provigo è una sede importante, una sede storica per molti versi, in cui ci sono sinergie importanti tra enti locali, penso al Cur che è partecipato dal Comune e dalla Provincia, e anche una presenza importante, un'azione importante della Cassa di Risparmio, perché è la fondazione, come sapete, uno dei principali finanziatori. Ecco, il buon andamento di questa realtà, la prospettiva futura di questa realtà, passa attraverso dei buoni rapporti e delle, come dire, azioni che abbiano in mente il futuro di questa realtà, che questi attori in qualche modo devono concordare. E sono convinto che la strada è, come dire, positiva e dà delle buone prospettive per il futuro. Strategico nel percorso universitario rodigino, il ruolo del Cur, istituzione culturale di supporto logistico, proiettata oltre i confini nazionali, così il presidente Mauro Venturini. Il Cur principalmente offre servizi didattici, però supporta pienamente tutte le iniziative che possono portare ad un incontro fra studenti e associazioni, categorie, insomma, in ogni caso una ricaduta sul territorio ci deve essere, anche se pensiamo che il Cur deve andare anche oltre il proprio territorio e quindi avere una prospettiva, direi sicuramente al di fuori dei propri confini, ma addirittura internazionale. Quindi è un valore aggiunto per il territorio che non necessariamente deve essere speso sul territorio, ovvio che ci deve essere, uno dei nostri partner è la Camera di Commercio, quindi ci deve essere una presenza, però si può andare anche oltre il nostro territorio. Questo noi speriamo che i nostri giovani, bravi, laureati, possano trovare impiego, soddisfazioni, prospettive, dove riterranno più opportuno. E come si colloca in questo contesto l'incontro di oggi? L'incontro di oggi è un'occasione perfetta, direi, perché vuole creare proprio il connubio tra gli studenti, e ormai forse alcuni di questi o molti di questi già laureati, e le imprese del territorio che lavorano in un ambito specifico, comunque aziende del territorio. Quindi questo è un evento perfetto, direi che potrebbe essere anzi una cosa da replicare anche per altri corsi di laurea, ovviamente richiede impegno e lavoro, ma il corso questo darà tutto il supporto possibile, quindi supporto logistico, organizzativo. Ricerca, didattica e territorio, in un'ottica di concretezza, i punti chiave di un percorso ancora in parte, segnato da evidenti discrasie di prospettiva, tra chi disegna a monte i canali formativi e l'articolato mondo delle imprese. I correttivi da Monica Fedeli, presidente del corso di studi management dei servizi educativi e di formazione continua. Abbiamo toccato i temi così caldi dell'evento, perché l'obiettivo che ci siamo posti nell'organizzare questo evento è proprio quello di far dialogare, di promuovere dialogo, ma concreto, tra ricerca, didattica e territorio. È per questo che tutti gli attori coinvolti in questo evento rappresentano l'università, quindi l'accademia, la ricerca, la didattica come corso di studi e il territorio, che si aprono per la prima volta, perché siamo alla prima edizione di Expo Tesi 2016, ad un territorio spesso non così attraente e non così preso in considerazione. L'idea è proprio quella di creare delle partnership intelligenti, avvicinare il mondo dell'impresa e il mondo dell'università non è cosa da poco. Come appunto poc'anzi un imprenditore sottolineava, non troviamo il campanello al quale suonare e noi spesso non troviamo l'interlocutore giusto. Quindi diciamo che l'obiettivo è quello di costruire delle relazioni che stanno proprio alla base delle nostre anche professioni educative e formative e di investire su questo. È il primo di una serie di eventi che ho voluto promuovere come presidente di corso di laurea e ce ne saranno altri, proprio perché ritengo che l'università debba occuparsi dello studente, ma più di quello studente della persona a 360 gradi, offrendo delle possibilità che vadano oltre al segmento accademico. La cooperazione tra università e organizzazioni in una cornice di sfide ed opportunità, il focus della tavola rotonda magistralmente coordinata da Paolo Gubitta, docente di organizzazione aziendale al Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali Marco Fanno. sono preziosi gli spunti. Il rapporto tra le università e le comunità in senso lato è un rapporto che va costruito in maniera consapevole e sostenibile. Oggi la tavola rotonda che ho coordinato ha fatto emergere alcuni temi di notevole importanza dal nostro punto di vista e anche sfidanti per il futuro. La prima cosa è che le università sono una componente, vanno pensate come un attore delle supply chain delle imprese, quindi della rete di fornitura delle imprese. Se noi ci immaginiamo come qualcuno, come un fornitore di capitale umano, di competenze, di relazioni dentro il sistema delle imprese, è evidente che diventiamo partner qualificati per le imprese e loro lo sono per noi. E questo è il primo elemento che è emerso. Per farlo decollare progetti tipo Parimun, che Scienze della Formazione ha avviato alcuni anni fa, sono la esemplificazione di cosa vuol dire diventare partner delle imprese anche per le lauree a forte base sociale e pedagogica. Un secondo elemento è che le università, se capaci di attivare relazioni virtuose col sistema delle imprese, sono dei grandi attrattori non solo di capitale umano, ma anche di capitale finanziario, di imprese. La collega Anna Chiara Scapolan dell'Università di Modena e Reggio Emilia ha portato dei dati a sostegno del fatto che le imprese vanno a fare investimenti in quei territori in cui le università sanno collaborare con le imprese e i centri di ricerca e viceversa. Da questo punto di vista la sfida per tutti noi è realizzare collaborazioni virtuose perché solo in questo modo saremo in grado di essere dei grandi attrattori. Terzo e ultimo elemento che è emerso è che per costruire una collaborazione consapevole, esplicita e sostenibile nel tempo non possiamo dimenticare che gli orizzonti temporali delle imprese e del mercato da un lato e delle università dall'altro sono orizzonti temporali diversi. Noi per forza di cose, noi università abbiamo orizzonti temporali di medio e lungo termine. Le imprese devono realizzare i loro risultati anche nel breve termine. Ecco, trovare il modo e le esperienze citate oggi sono il modo attraverso il quale gli attori coinvolti riescono a ridurre questo sfasamento temporale e a fare in modo che ciascuno continuando a fare il suo mestiere si riesca a realizzare una concordanza di scadenze, concordanza di tempi e quindi noi portiamo alle imprese dei laureati o dei dottori di ricerca capaci immediatamente di essere produttivi e le imprese o le comunità in senso lato coinvolte nei processi di progettazione della formazione possono aiutarci ad anticipare i loro bisogni per il futuro. Ad aggiungere motivi di riflessione, le risultanze di Parimum, il progetto della Facoltà di Formazione della Università di Padova, nato per produrre valore condiviso attraverso una stretta sinergia tra ricerca e sperimentazione messa a punto dai giovani specializzanti e i bisogni conoscitivi delle imprese locali. L'opinione degli studenti dalla coordinatrice Daniela Frison. Gli studenti si muovono tra due binari, quello dell'università perché devono consegnare la loro tesi alla comunità accademica e quindi devono appropriarsi di un linguaggio scientifico, di tecniche, strumenti che sono legati alla ricerca, in questo caso educativa, ma si muovono anche sul binario dell'organizzazione e quindi si tratta per loro di imparare a parlare due linguaggi se vogliamo, da una parte quello scientifico ma dall'altro anche il linguaggio dell'organizzazione, capire come comunica l'organizzazione, come ci si muove all'interno di un'organizzazione, come restituire all'organizzazione dei risultati che sono propri della ricerca scientifica. Fare i puntati infine sulle buone pratiche tra le eccellenze Francesca Rinaldi, ex allieva entrata nel mondo del lavoro qualche giorno dopo la discussione della tesi, una esperienza brillante raccontata dalla giovane educatrice con l'entusiasmo di chi sente di avere quella marcia in più che solo una buona formazione sa dare. Grazie Grazie Grazie